in questi giorni dove tutti siamo a casa ho mangiato veramente veramente tanto e ho bisogno di depurarmi un po' ho pensato ma si dai facciamoci una bella frittata con i carciofi e visto che non ho le uova e stanno iniziando a terminare ovunque avevo a casa dell'albume così almeno faccio anche un bel tocco light tutto quanto ovviamente lo preparerò utilizzando il mio nuovo fornetto che ho acquistato da casa nova che è magico i taglio a fettine sottili ecco fatto non aggiungerò l'olio ovviamente perché spesso in tutte le padelle i cibi attaccano invece nel mio fornetto non attacca proprio nulla è un ottimo antiaderente ecco fatto inizio a mettere i miei bellissimi carciofi nel fornetto aggiungo un goccettino proprio finino di acqua e li lascio andare cinque minuti non di più anzi aggiungo un po di curcuma a questo albume così coloro questa bella giornata giro che bel colore che profumo questa curcuma e che bel colore sono proprio soddisfatta con un solo strumento in pochissimo tempo e un pizzico di fantasia ho preparato la cena in soli sette minuti